I giallorossi hanno proseguito gli allenamenti alla cittadella dello sport di Martignano, seduta atletica in palestra e poi in campo per qualche esercitazione tecnico-tattica. Hanno proseguito il lavoro indifferenziato Moscardelli, Curriale, Lobue e Cosenza. Intanto il centrocampista ungherese Vexei si dice contento per il gol realizzato al novantesimo a Martina ed amareggiato per non essere riuscito a ribaltare del tutto il risultato. Il centrocampista rassicura il popolo giallorosso che otterranno i tre punti davanti al proprio pubblico. Questo pomeriggio test con la Berretti al Via del Mare. Intanto per oggi atteso un verdetto, il procuratore federale Stefano Palazzi ha chiesto per il Lecce tre punti di penalizzazione con la squalifica di Benassi, Rosati e Ferrario per tre anni e mezzo. La difesa giallorossa è affidata all'avvocato dirigente Saverio Sticchi Damiani che nella stanza delle udienze della Corte federale d'appello proverà a scagionare definitivamente il Lecce e i suoi ex tesserati e nonno.